Quell'amministrazione doveva essere sciolta. Il Tar del Lazio non ha dubbi e respingendo il ricorso del loro sindaco di Bagnara Calabra, Cesare Zappia, ha confermato la decisione presa con decreto del Presidente della Repubblica il 14 aprile del 2015, ribadendo le forme di condizionamento delle istituzioni locali da parte della criminalità organizzata. Per il Tribunale amministrativo è rilevante la relazione della commissione d'indagine che avrebbe raccolto e ricostruito circostanze e vicende che dimostrerebbero in modo inoppugnabile come gli organi elettivi del Comune di Bagnara fossero sotto pressione e condizionamento, in grado di comprometterne la libera determinazione. Al Tar in particolare era stata sottoposta l'assoluzione di alcuni soggetti ritenuti tra coloro che avrebbero condizionato l'amministrazione, ma il Tribunale ha respinto la questione perché, si legge nella sentenza, le assoluzioni penali in parola non riguardano direttamente i fatti oggetto della relazione della commissione d'indagine, ma fatti a esse estranei o episodi a essi solo marginalmente connessi. La Calabria al Sud ha la guida della classifica dei comuni sciolti per mafia negli ultimi cinque anni, 29 in totale, tra questi in Ardo di Pace, in provincia di Vibo Valencia, sciolto per ben due volte nel 2015 e nel 2011, Bagnara Calabra, Bovalino e San Ferdinando, Africo, Badolato, Scalea, Ricadi, Taurianova, Ardore e San Luca. Tiziana Bagnato per la C News 24.